Buongiorno a tutti, allora oggi sperando che non voli la pentola un'ottima pasta al pesto tortiglioni per essere precisi, so benissimo che magari i tortiglioni non sono il massimo col pesto però c'erano questi aperti e quindi si fa questi, mica so aprire un'altra, i fusilli apposta per fare la pasta tanto per me la pasta è pasta, che siano tortiglioni, che siano fusilli, che siano penne la pasta è pasta, integrale naturalmente, così almeno stasera si salta il pasto perché sono a due etti e mezzo di grandissima libidine, tra poco me la pappo, alla facciazza degli spagnoli e si gode ancora, perché si gode ancora, fino a domenica si gode e anche che comunque andrà, si godrà lo stesso Ciao!